C'è un bellissimo concerto di rane, quasi sembra di disturbarle, sono qui con il professore Antinino Zichiccheri, che tra l'altro è anche uno studioso della rana, giusto? Dalla rana, della natura, stile libero, insomma studia un po' tutto, però queste rane sono a rischio. Sì, per quale motivo? Perché l'acqua, non sento molto acqua, in settembre asciuga i porci, asciuga anche i fiumi. Ovviamente come vedi qui, questo si chiama ammassatoio, si chiama ammassatoio perché ci tirava sempre l'acqua. Nel senso che molti ammazzavano, cioè l'ammazzavano, l'acqua serviva per pulire le carni. Però il ministro dell'ambiente, che tra l'altro è un suo collega, ha detto che nonostante tutte queste piogge che ci sono state a marzo, aprile, non ci sarà acqua, ma come è possibile? Allora vuol dire che c'è un problema negli inva? Perché l'acqua, partendo dal cielo... Allora diamo il ciclo dell'acqua, prima di tutto come si formano le nubi? Adesso si asciuga l'acqua, si asciuga l'acqua, si asciuga l'acqua e si asciuga i fiumi. Si forma però la nube... La nube, se non fa il vapore d'acqua, la nube non si forma, perché non va la... O la gente scureggia con le nubi, non è che si forma così. Non è che si forma l'acqua così. Quindi questa nube incontra una corrente A? Artica. Artica. E fa i temporali. Fa i temporali. L'acqua scende. E piove. E come piove... E dove va? Però dove va l'acqua? Nelle fa... Nelle faide. Nelle faide. Le faide praticamente sono sempre... Esistite sempre. Però da quando hanno sciupato i fiumi, perché hanno sciupato i fiumi... Professore, le faide sono così, senza... Fa sciugare anche loro, eh. Ma alla fine, speriamo. Sciuga, qualsiasi cosa si fa sciugare. Le faide hanno il controllo, insomma, dipendiamo tutti da queste faide acquifere. Acquifere, sono delle vene dell'acqua. Togliono il sangue, le famose vene. Famosi vene. Allora, da queste faide va tramite cosa nostra? Nel... Nel torrente. Nel torrente. Il quale? Il quale... Il torrente porta l'acqua allontano. Porta l'acqua via. Fino alla Fù? Fino alla Fù, sì. Fino qui? Anestù? Anestù? Fino ai mari, praticamente. Fino al mare. Fino al mare. Però non savi là per quale motivo. Cioè si chiama il De? Il De quando arriva il Del? Il Deltaplano. Il Deltaplano, che arriva quando arriva al mare. Non arriva mai al mare, perché... Lassù... Perché lì con il Deltaplano riparte... Riparte e vai a dare la dubbia. Quindi l'acqua si chiama con i bicchieri al volo? No. Mentre il manzo in giù? Non la chiama al volo. Allora... L'acqua non la puoi chiama al volo. Perché prima... Ma in quale siete? C'erano i gorgoni grandi. I gorgoni. Adesso i gorgoni non c'è più neanche. Adesso non c'erano i bagni sui fiumi. I gorgoni. Antonello, Zichichiri, Leonardo con me la bocca mi si è impastata. Eh, per forza. Per la salute. Per la salute. Grazie a tutti.